Paolo Grimoldi, perché dice che il governo sta snobbando il Gran Premio di Monza? Perché la Regione Lombardia ha deciso di investire sul Gran Premio d'Italia e abbiamo chiesto non un centesimo di euro al governo e allo Stato centrale ma semplicemente di fare una ratifica di carattere burocratico. Ci hanno garantito prima nella legge di stabilità, poi nel mille proroghe, poi nel decreto IMU, fino ad arrivare oggi al decreto sulle banche, che l'avrebbero fatto, questo passaggio di carattere burocratico. Non è stato fatto. Renzi ha mentito per quattro volte. Il Gran Premio d'Italia rimane senza fondi. Rischiamo di perdere il Gran Premio d'Italia. Decidete voi se il governo Renzi ha mentito quattro volte perché è contrario alla Formula 1, al Gran Premio, odia all'autodromo nazionale di Monza per i motivi più diversi di questo tipo oppure perché si è già accordato con la grande finanza per trasferire il Gran Premio d'Italia da un'altra parte. Io propendo per la seconda.